musica allora vabbè secondo me c'è come entrare a casa e vendersi della terra o della sabbia terra o sabbia? aspetta vediamo cosa trovo qui in alto ok queste cose sono difficilissime da trovare si alquanto sono abbastanza rari e in più non droppano quello che dovrebbero droppare perchè tre li abbiamo già trovati si esatto quanti ce ne servono di ste teste? tre porca troia facciamo una cosa come ti stavo dicendo andiamo a casa prendiamoci un po' di roba così se le droppassero easy già avremmo finito aspetta voglio comunque esplorare non so perchè ho questa mania di esplorazione del nether oggi vabbè vado io e dopo torno no io voglio rimanere solo vai zampi tutto solo se trovo quelle merda le uccido così prendo anche del cibo magari si bravissimo ehm il fatto è che sono alti tre blocchi quindi devono essere nelle zone dove sono altri tre blocchi oh mio dio cosa ho trovato quindi all'esterno del piove in ossia oh mio dio da quant'è che non piove da un bel post buono fa piovere ok questo è un posto molto brutto io ho tanta paura ok mi dovrei anche buttare mi butto bom perfetto mi butto ecco quello che abbiamo fatto non ce n'è cotto ah perfetto c'erano dei polli se non sbaglio una bracciola vedi se c'è l'anguria vedi se c'è l'anguria disponibile sopra l'anguria infatti vado a vedere aspetta prendo la cobblestone tutta forza intanto sto vedendo qui in giro ma mmm non trovo assolutamente niente di così speciale mmm vado a mettere la texture anche della mela adesso che vedo si adesso è proprio una mela se hai visto non è una cazzata ah intanto io sto registrando oceana con la texture pack normale non me ne ero accolto ahsd vai tranquillo non ho un problema me ne sono accolto dopo due episodi ma vabbè ma ragazzi intanto la normale fa sempre bene esatto poi dal prossimo episodio magari metterò la spax anche perchè è uscita la 1.4 non credo sia ancora disponibile così bello rapido ma è improbabile ma forse si se si tengono quelli che la fanno si vabbè anche un sito quello che la fa quindi allora è probabile che ci sia già cioè non so più dove deva ok mi sono perso ok tanto per un po' arrivo allora ho fatto dei panini 21 panini proprio panettiere for the win 21 panini per dio quanto cazzo di grano c'era 64 ok tipo i cosi che piangono che cosa sono? i ghast i ghast i ghast sono quelli che ti sparano le pallone gigante dell'alto dove tipo cazzo bombardiere ti smertano si ti preoccuparti ma non è che sti porci magari ma non è che sti porci non cioè non ti danno fastidio altrimenti sti gran cazzo da vero sai che roba è tipo tutti quelli la contro una roba assurda ti immagini i porci normali innocenti si trasformano ti fanno il trail e tu sei tipo la notte di Halloween maiali non sono più maiali sono dei maiali zombie la smetto va bene la smetto zampi non serve insultarmi così chi ha parlato? yes sai che in amnesia 2 mettono i zombie maiali? perfetto copied to Minecraft ecco non lo so perfetto allora io sono al portale in questo momento eee tu dove sei? non lo so vorrei tanto saperlo anch'io sai? perfetto questo è un male diciamo vediamo se riesco a trovarti in qualche modo ambiguo allora aspetta io sono in una parte molto alta tu dove sei? io in una parte molto bassa direi lanciami un segno ho lanciato la spada vero? si allora allora tu vedi tipo un fiume di lava cadente? io ne vedo tanti fiumi di lava cadenti ok uno io sono lì ok forse non è la meglio forse è un altro fiume di lava cadente è più cadente del mio cadente del mio cadente che che cadente basta allora allora aspetta oddio cos'è questa wave molto faiga che sto intravedendo ah simplemente numero uno e io torno alla bro ah! dove torni? allora se vedi dei blocchi di cobblia che stanno impilati sono io che sto andando verso la grotta ah verso la fortezza ma sto cazzo dove sei dove sei dove sei? uno su uno oppure uno sputo di vita porca puttana io entro proprio nella fortezza qua quasi qua quasi vediamo un po nella serie fottiamocene di jump non ti trovavo tipo magari sei qua nella fortezza ma quando mai me ne renderei conto sono proprio avevo salito la montagna e della montagna non ho idea più di dove sono andato il fatto è questo oh mio dio che cosa ti rivista allora aspetta oh Jesus Christ mamma mia ho paura che cazzo è questa zona un mach machibzigant po perco troia ma era bella vita in Romania ok forse qui aspetta forse ho trovato la via forse anche se l'ammasso di monte ma perché quando passa accanti ai maiali si girano non dovrebbero girarsi no non lo so oddio sono abbastanza concentrato in questo momento zampi anche io sono abbastanza oddio ho trovato ho trovato il portolo bella è bello un cazzo io sono andato nella fortezza dovrei buttarmi porca puttana non lo so non lo so non lo so ho trovato la way oh my god ho trovato un awake si perfetto mamma mia che scena allora allora parli in francese chiede di più parli in francese ma l'italiano un casse no cassella cassella si tipo nuova a cui ti piace oggi vai forti blablabla allora questa è una cosa triste molto triste anche io perchè non ho più messo la cobblestone a parte due pile che ho già fatto e dopo ne ho più messo perchè mi sono dimenticato che devo farlo oh sono davanti al portale proprio in modo potentoso io sono nella forte vedo la cobblestone vedo la fottutissima cobblestone no no ho più fame oddio mi serve qualcosa da mangiare in modo istantaneo e easy mi devo avvicinare verso di te si vieni verso di me ti jumpi teco kiss me ah fuga issa porca puttana mio dio e gooo oh 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 fuga 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 e mi rimane l'ultima coscetta di cibo Aspetta sto arrivando verso i test Mi sa sto arrivando forse Non lo so non mi ricordo dove sono Dove sei più te più caldo Zampi? Eh io? Dentro la fortezza Bella domanda Allora io sono sopra Della Netherrack Bello Anch'io adesso Vai Ok io sono tipo sopra Le fortezze Sopra non sono dentro Sopra sono sopra Quindi dovremmo individuarsi in qualche modo Io sono proprio all'ingresso della fortezza Dove c'è anche un coso di quelli grossi che sputa Guarda dov'è guarda dov'è Che sputa Il gas Porca Ok mi proteggo con la spada Mi farà qualcosa Lo sento lo sento il gas Bravo che lo sa Ecco ho sentito più questo però Ok mi metto dentro Ciao giù Non uscire Rientra Ci penso io l'arco Vado forte io Vai Se lo finisco nella lava sempre Vabbè Sto cadendo Mi sta scendendo la vita Mi sta scendendo la vita Vieni qua verso di me L'ho ucciso L'ho ucciso Guarda che ha droppato le lacrime Ah no Stavo scherzando Vieni qua Vieni qua dove sei Zampi Guarda Zampi Quanti dai panini No Ok troppi basta Me li devo riprendere un po' Vieni qua Che stai facendo? Io stavo spegnendo il fuoco Oh cos'è da mangiare? Cinque panini Un pane? Tre o quattro Tre Sono full Che bello Oh Ciao Vuoi una baguetta? Vuoi una baguetta? Cos'è la baguetta? Non lo so Non mi ricordo Cos'era? Non mi ricordo Allora io direi di andiamo da quella Da questa Da questa è pieno di blaze Però non c'è neanche un wither bro Wither bro Poi li chiamerò e li chiameremo wither bro Ok c'è un bro Wither Basta Proviamo da questa Ci siamo andato? Mi ispira Mi ispira che c'è un buco in fondo al ponte Non potremmo traversarlo in modo decente Però c'è la salita dietro al ponte Non correre Non correre Sino siamo troppa merda Oh c'è una cosa stregata Guarda guarda vieni qua vieni qua C'è la puttana La puttana è stronza Oh mio dio bella 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 La cosa stregata lui la chiama Vai zampi Cazzo Non farla cadere Nooo C'è un gratis C'è solo l'esperienza no? C'è solo l'esperienza Oh cazzo Oh cazzo un ghost Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Fuga treccio Fuga treccio Fuga treccio Vai più su Vai su dritto Non curvare Ok zampi eccomi Ciao Allora aspetta che ti raggiungo Che momento adrenalinico Io ho così Io soffro Io sono vecchio Tu non puoi resistere Esatto Ho la mia età Cioè Soffri di cardiopatia Sei cardiopatico per l'appunto Però c'era una strona Beh Dalla ho buttato giù Speriamo che non avesse droppato niente Esatto Ok E tipo durante il video vedo un schietto Eccolo in un altro Un altro Vieni qua Blah Ho finito le frecce Questo è un male Non mi ha droppato niente Anche perché ci sono due blaze Che è un malissimo senza frecce Torniamo indietro Evitiamoli E io c'ho due frecce Possono servirti Sì Due frecce Sono abbastanza buone Qua c'è un magma cube Non droppa niente Aspetto che vedo un po' la situazione Eccola Grazie Ciao Ehm Non so cosa fare Ho trovato due stregoni lì Quelle cose stregate Come cazzo si chiama Non vuol dire stregato Wither No In modo veloce Il che è molto figo I Witherbrocco sono quelli Dai ricordo Witherbrocco Allora Dove andiamo? Non ho idea Io ho spero di trovarne Entrano proprio così Mi doze Oh porco Oh mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Che cazzo Ti ha sparato in bocca Praticamente Troia Mi son visto a sto proiettilone Arrivaremi addosso Esatto Oh gas di merda Vieni qua Guarda Vieni qua Entriamo qua dentro Vediamo dove ci porta Vieni da buddana Perfetto C'è da glowstone Dico Io lovo la glowstone I love glowstone Va dentro se qualcosa Lovestone Vieni qua C'è di su chi d'rento Cos'era? Guarda Mattia Montesi Perfetto Perfetto Allora io voglio andare là dentro Guarda dove Dove No Non ci voglio andare Ah sei là giù Però ho paura Non ci voglio andare Guarda quella fortezza E infatti Eh io quella Dicevo Aspetta Controlla che non ci siano Casti in zero Si spaccano il ponte Vuoi fare un ponte Per caso Oh mio dio Vuole fare un ponte Oh Cristo Controllami le spalle Vai tranquillo Vai tranquillo Facciamo tipo Spalla Spalla Che mi fido di zampi Ditemi che posso fidarmi ragazzi Ditemi che non faccio male Tu creami Mamma mia ho paura Le vertigie Le vertigie Ma tu Ma madonna Sopra la lava Madonna Oh Cristo Oh Cristo Che cosa Adrenalinica Mamma mia Mamma mia Sai se mi per Sai se Non lo mollare Corca troia Ok 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 Questo è il check point Siamo il check point Siamo il check point Ti vediamo duro Chiudi questo buco Chiudi questo buco Oh Cristo Che l'ha gato Hai visto anche me Oddio 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 Non adesso Stupido Dai 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 Sono quasi salvo Sono quasi salvo Ok adesso siamo No c'è un buco Mio dio Porca troia C'è un buco enorme Non c'è più Scendi Oh Cristo Cristo Oddio Mamma mia Mi sento molto Oh Cristo Cristo Adesso se lo troviamo Uno di quelli di scattolo Però mi incazzo Dopo tutta sta roba Esatto Ok sta laggando Perché tira le laggate Non lo so Mi sa che il netto si carica Sì esatto È pesante Oddio Cosa sono ste cose Prendiamole Le verrucche del nether Ah ok Guarda come cazzo si spaccano Lasciamole tipo Questa è una cosa enorme Cosa Sta fortezza enorme Oh questa è una fortezza Molte ftv infatti Porca puttana I blaze I blaze Oh 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 Fugaggio 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 dove aveva Porca turroio Ma qui Ciao Dove sei Dove sei Dove sei Ah ciao Allora qua è piccolo C'è guarda quanti Quanti svviamenti a questa fortezza È troppo esagerata questa Compronta Sì esatto Prima Quella di prima Dicevamo Oh il grondolo Vordese Sì è un buco del casp Sì il fatto è poi ritrovare il portale Ma Non dirmi che è barricato qua in fondo Perché beh No non basta Non va bene Smettetela Smettila Roileth Stupido È chiuso Piccolo secolo Porca troia C'era tipo una specie di sottovia Mamma mia Secondo me è tutta così sta cosa No Molto brutta da dire Oddio Sento un blaze che mi aiuta Anche infatti Oddio Vabbè Tipo la tosse Il catarro Tipo così Oddio mio Ma tipo è il mio telefono Dove cazzo Ah vabbè Il mio telefono C'è il timer mess No c'è il timer mess Lo guardo ogni due secondi Poi lo dicevo Dove è il mio telefono Porca troia Qui bisogna chiudere E barricare al volo Oddio Guarda dove sono No non ho idea La stella Ok ci sono persi Ambiente No aspetta aspetta Ti ritorno da Vabbè qua Sempre con i stupidi Di astro cosa Dove cazzo Ah ecco ti sono fuori No sono sotto di te Ok Niente doppi sensi Ragazzi niente Dopo che sono sopra La fortezza Praticamente Porca puttana Ci sono tipo i punti luce Che danno Oddio Vedi qualcosa Oh Chris No non vedo niente Ok l'ho ucciso Ok l'ho ucciso Niente Aspetta potrei anche intruvolarmi qua volendo ma Dove sei tu oh mio dio Eh sono dove c'erano le verruche Ok aspetta sto arrivando Arrivo easy Ecco ti ti vedo Oh cazzo Che cos'era quel bordello Oddio Vabbè lui è pazzo Ok vabbè Ok vabbè Non per questa guai Ma dobbiamo per questa guai Saliamo qui Vediamo che ancora Non l'abbiamo esplorata Questa zona Oh vabbè Guarda qui che si è ancora Guarda altre verruche Quante cazzo Ma per Dio Guarda Spieva da sotto Oh no Una cosa stronza Boh bro Vieni qua Bro Cosa cosa Con la Wither di Mer Bro Wither poco Non mi ha droppato niente Dai Ma che palle che sono Dai non mi ha droppato niente Sono a carbone mi droppa Il fatto è questo Tipo di immagini che non si fa così Che non lo droppano loro Tipo mi bestemi contro Chi Ma sei sicuro che te lo droppano loro Sì 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 sono sicuro Vedo su Google Ma sono 100% sicuro Vedi non si può mai sapere Io ti cover Che tristezza In caso cominciamo la serie Perché Probabilmente Abbiamo dedicato tutto questo Allora Aspetta Space pack un po' di merda Wither Drop Water Drop Ma che cazzo Stupido Wither Drop Perfetto Tu droppi l'acqua Wither Skeleton Skeleton Ecco come si chiamano Wither Skeleton Skeletri Wither in poche parole Ok E droppano Wither Skeleton School Ecco vedi Che è la testa Buono Però è molto raro Mi sa Molto molto raro Dove sei perso Ah qua Aspetta che leggo Non leggere più Ti fa male Lecce No aspetta Non vorrei far battere Non vorrei dirboiate Ho pauri di questa Ok Anche ho paura Sai che ti picchierei Sì vabbè ma sai che Sarasino Tutte queste tre cose Sì vabbè Non a caso Ma stia che cos'è quello Uno spawner Oddio Messaggio Allora vediamo un po' Di uscire da qua Perché secondo me Oh cristo Ti largate Esatto Eh perché c'è la lava Sotto la lava È un casino Da caricare Continua Guarda che roba Ti blazed Da ci sono O no Sei uno spawner Perché tu passi e corri Oh mio dio Porca troia Libro che si doveva fermare Attento Attento No Oddio 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 Io mi son beccato dentro In una cosa assurda Qua c'è uno screen No 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 Casa dolce casa Meno male che mi aveva troppato Le teste di casa Eh le teste Infatti Possiamo chiamarle così In effetti Tanto ormai No Vabbè cosa Ho perso l'armatura 64 pezzi di carbone E basta Sostanzialmente È indifferente Vabbè è indifferente Allora Oh mio dio Caso se avevi le teste Fa un problema Oh mio dio Vabbè ritorno da qui E poi dedichiamo Il cercamento delle teste È un po' più là Perché abbiamo capito Che è una cosa Molto straziante È brutta Logorroica Esatto Cioè Oh mio dio Che cazzo di urlo ho tirato Cioè E poi è arrivato E mio padre ha detto Ma che fai Una cosa del genere Ma che fai Esatto Oh mio dio Per futuro Perché voi Per fortuna sanno Che sono mezzo malato E che urlo Quando registro Però vabbè Io ormai tipo Sono bagato Tipo quando hanno persone a casa Sentono urlare Chiedono Ma cos'è È mio figlio Sì esatto Comunque Ritorna qua E ci dedicheremo ad altro Perché ho dietro Aspetta Secondo te È così semplice Per me Venire là Ma lo so Però Sai che è un È un WDL Un WDL Perfetto Un WDL Faccio prima suicidare No Non ti suicidare Cazzo fai No No Vabbè Comunque È buono Un WDL